La compagna che dice quello che tutti pensiamo Nessuno che segue la lezione, nessuno che impara ciò che dico, io sono stanca di insegnare in questa classe Senta scusi, innanzitutto si rilassi perché qua in classe non stava volando una mosca, nessuno stava dicendo niente Chiudi quella bocca Giulia Ma scusi, chi pensi che siamo noi per essere trattati in questo modo? Siamo dei cani o cosa? Perché se lei vuole rispetto, la prima cosa che deve fare è portare rispetto a noi Aspettimi, faccia continuare perché inoltre tutto quello che spiega lei durante le lezioni È quello che c'è scritto sul libro, legge parola per parola L'unica cosa che ci importa delle sue lezioni è quando parla della sua vita Quindi se nessuno qua in classe impara è perché nessuno qua sta insegnando Fuori dalla classe in questo momento, non entrare mai più eh Cosa succede professoressa, gli fa male la verità in faccia? È così Fuori dalla classe Giulia Ah io me ne vado senza problemi, però quella che dovrebbe andarsene sarebbe lei Perché al posto suo dovrebbe esserci qualcuno che avrebbe voglia di insegnare E che sia competente in quello che sta facendo Ecco cosa Like se hai questa compagna E che sia competente in faccia?